Dallo Stadio Olimpico di Torino, Juventus-Milan, buonasera da Fabio Caressa e Beppe Bergomi Molinaro che prova ad arrivare, c'è sempre un'orizio centrale, il taglio invece per Del Piero, c'è il contatto, calcio di rigore, calcio di rigore Secondo me c'è, vediamo Alex Del Piero, 251 con la Iota La palla ancora per Sedorf, uno contro uno di Sedorf, le finte su Nedry, arriva a traversone, secondo palo, clamoroso errore, sotto porta di Ambrosini Pirlo, Manninger, poi Sedorf, il traversone, Manninger ancora Non ha rimbazzato il pallone, ma era difficile lo stesso per Manninger Arriva a traversone di Zambrotta, c'è un altro contatto per il pallone, per Sedorf Ha ribattuto Chiellini, si impenna ancora il pallone, Ronaldinho, Manninger E c'è fallo su Manninger, calcio di punizione per la Iota Calazze, il zona tiro, Calazze, va dentro per Ronaldinho, 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 il cross 1-1 1-1 Pareggio strameritato del Milan, perché sta veramente giocando una grande partita La palla arriva per Melbourne, gol! Anzi, Chiellini, Chiellini per il 2-1 Non lo chiude nessuno, è arrivata a versione di Decegne A Maui! 3-1 Ancora schiaccia in porta Maui Palla verso il centro, anticipato, c'è il soccolo di contrapazzo Che parata di Abbiati, la fissa all'ultimo Ronaldinho, Sedorf Allarga per Ambrosini, zona tiro, la prova a destra, Massimo! Ambrosini, con una deviazione, 3-2, undicesimo Chisio Cerca l'apertura a memoria, splendida per Decegne Prova ad andare Decegne, seguito da Zambrotta Ancora la forza di Decegne e Zambrotta lo travolge Secondo giallo per Zambrotta E finisce la partita, anzitempo, sotto la doccia Marchisio Amaury, con il petto, si soccò Amaury, ancora la porta avanti Amaury può girare Amaury 4-2, doppietta di Amaury Palla dentro ancora Chiede Decegne, il pallone perde il piede, la finta Palo, clamoroso palo di Del Piero Una grandissima Juventus, batte un buon Milan, 4-2